Si chiama Bella. Qual è il nome? Bella. Quanti anni hai? È più giovane. Un anno. Bella. Hai dato il cane. Ha la pizza in bocca. La pizza in bocca. Per dire incredibile si dice That's incredible. That's incredible. Beh, io non dico incredibile. Incredibile. Io non dico. Incredibile. Perché io credo e nessuno niente incredibile. Ti ho detto se io vengo dieci giorni in America, dieci giorni parlo inglese. Dimmi. Non è aperto. Non è aperto. Entra con noi. Vieni Bella. Vieni Bella. Aperto. Vieni Bella. One Christmas. He 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 Lola. Dicono lewangi. Paola. Ti guardano? Io le판ano. Como te ben recallo? Renzo. Renzo. E te? Love yourbe? I cuccioli? Sì, ho visto ieri, ho fatto la fotografia, ho fatto la video, adesso stiamo lavorando là sopra, stanno facendo dove? Ah vieni se vuoi vedere, vieni bella, vieni, è la pizza, lui si chiama Anthony come il papà, no è Anthony, lui si chiama Paul, ah il figlio è Anthony, il figlio si chiama Anthony Paolo, vieni bella, questa è Nissan Micra